Qui vi mostrerò due modi per fare i nodini alle collane di perle, uno più professionale e l'altro un pochino più economico ma comunque molto importante. Allora, questo è il sistema più professionale, ho comprato questo in fila perle di nylon da Gromeda Beads e qui vi faccio vedere che sto inserendo, cioè sto facendo i nodini a questa collana di perle di fiume. Allora, il sistema è questo, inserire la perla e questo infilaperle ha già una specie di ago che permette di infilare le perle tranquillamente, portarlo alla fine vicino alla perla quella già inserita, fare un giro intorno al dito con il filo, infilare l'ago per fare un nodo. Portare ovviamente tutto il filo fino alla fine e poi qui con l'aiuto di un ago più grande portate il nodino verso la perla tirando forte. Poi con le unghie vi aiutate e portate il nodo perché vedete ancora è distante, verso la perla spingendolo verso la perla e tirando il filo. E il nodo viene vicino alla perla. Ora vi faccio rivedere di nuovo il passaggio. Si inserisce una perla. Si fa, si gira il filo, io faccio questa maniera, giro il filo intorno al dito, inserisco l'ago per fare il nodo. Porto il filo, cioè tiro il filo fino a che il nodo abbraccia completamente il mio dito, sfilo il dito, prendo un ago, sempre un ago da cucito oppure potete utilizzare uno spillo. Tiro, porto il nodo alla fine proprio attaccato alla perla e poi mi aiuto con le unghie, vedete ancora è distante, con le unghie perché ancora non l'ho tirato completamente, spingo e tiro. Davanti alla telecamera è un pochino più complicato perché ho la difficoltà per farvelo vedere, però con questo sistema vengono dei nodi molto molto vicini. E se avete la difficoltà di che i nodi vengano troppo piccoli perché i fori sono troppo grandi, potete mettere doppio questo tipo di filo. E ora vi faccio vedere mettendo il filo doppio come poter utilizzare anche un filo che non è specifico per le collane, cioè non è proprio quello comprato in merceria oppure comprato da rivenditori come Andromeda Beats. L'effetto dei nodini è veramente molto bello comunque. Quindi ecco vi faccio rivedere, questo è un infilaperle. Se invece non avete, dovete prendere questo filo di, è sempre un filo, questo è un filo da cucito, però è quello che serve per cucire i jeans, quindi è molto molto resistente. Cioè non si strappa, non si rompe con tanta facilità. E lo potete sostituire ovviamente al filo quello professionale. Però in questo caso io vi faccio vedere come si utilizza mettendolo doppio. Si inserisce nell'acqua filo doppio. Vedete? Quindi è doppio il filo. E il sistema è lo stesso, inserite la perla, scusate la tosse, mali di stagione. Fate di nuovo il notino come vi ho fatto vedere prima. Qui ho utilizzato un ago con la cruna lunga perché è più semplice da infilare. Lo stesso fate con l'ago, come vi ho fatto nel giro precedente, cioè come vi ho fatto precedentemente con l'altro filo. Tirate, solo che questo, avendo due fili, il nodo viene ancora più bello. Perché tirando si avvicina completamente alla perla. Quindi utilizzando due fili, anziché uno, il risultato secondo me è migliore. Io ho utilizzato i vari sistemi e devo dire che quello con due fili, a prescindere che sia un filo da cucito o siano due fili da, ovviamente, quelli in fila perle, il risultato secondo me è molto molto più bello e più compatto. Le perle veramente rimangono molto più vicine una dall'altra, perché il nodo si fa così e ne arriva fino giù in fondo. Però tirando si avvicina completamente alla perla. Per questo vi dico che dovete utilizzare un filo molto resistente, perché vedete quante volte viene tirato. E viene il nodino perfettamente vicino alla perla. Quindi io utilizzo questi due sistemi. Diciamo il secondo mi piace di più, quello con due fili. Ora vi saluto e spero di esservi stata utile anche questa volta. Ciao ragazzi! Grazie! 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 Grazie!